guarda che quello scappa scappa da dietro eh prendi la eh sì sì tu fai un scemo quello si butta faccelo a me come se ci avessi fatto strada no non ti do una mano fallo da solo voglio riprobare ecco qua se lo prendi eh hai preso da dove sta dai 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 che lo prendi dai no vabbè dai oh la quale c'è da qua questo è come si prende un polpo ma il polpo che hai preso tu come ho preso lui a piatto vai dai che se ne va eh se ne va stai attento scappa no non te la do una mano voglio vedere come lo prendi voglio vedere la tecnica questa è la tecnica del polpo come si prende il polpo no 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 sto filmando per far capire che pescatore di livello vai vai non ridere questa è una cosa tecnica guarda che poi si butta in acqua eh dai 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 che ce la fai no guarda ne ho visti pescatore di polpi ma questo non è proprio buono vai ti do una mano perché sei un tanchino mantieni ti 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 oh è un pallone ah c'è piatto un polpo dai piatto un polpo capito a te è l'utile che fai grazie a te a te a te Grazie a tutti.